Allora dottore Congelamento dell'orecchio destro con prognosi di circa 20 giorni salvo complicazioni Congelamento dell'annatica sinistra La prognosi è riservata perché temo la perdita della sensibilità cutanea della zona Congelamento del mignolo sinistro con interessamento parziale di palangelo e palangelo-palangetta Prognosi di 18 giorni Congelamento dell'anulare sinistro con complicazione nella mobilità della mano del dito di qui sopra Congelamento del naso con perdita dell'olfatto Temporanea ma non definitiva E questo è un congelamento del cazzo Come dottore vuol dire che quello non è congelato? No no voglia proprio dire quello che ho detto